insediato il nuovo questore di pesaro raffaele clemente il presidente del tribunale stroncato ieri da un infarto lunedì funerario di maio in arrivo a pesaro per il progetto comune adotta comune al liceo marconi l'auto simbolo delle stragi di mafia la vl riparte da repesa e dal quarto anno di carpegna prosciutto buona serata cari amici e amiche di rossini tv per questa nuova edizione delle rossini news telegiornale di venerdì 8 di luglio che apriamo con l'insediamento del nuovo questore di pesaro raffaele clemente che ricoprirà il ruolo lasciato libero da michele todisco congedatosi il primo di luglio vediamo salutato michele todisco benvenuto a raffaele clemente pesaro accoglie ufficialmente il suo nuovo questore della provincia in quello che oggi è il suo primo giorno di lavoro nei panni di questo ruolo clemente originario di caserta dove c'è nato nel 1961 ha ricoperto diversi importanti incarichi nella sua lunga carriera che lo hanno visto nelle vesti di funzionario della digos sia a milano che a roma nelle attività di antiterrorismo e di contrasto a formazione neonazista e xenofobe ma anche di comandante generale della polizia locale di roma arrivato ieri in città il nuovo questore di pesaro ha sin da subito avuto delle buone impressioni della sua nuova destinazione e degli abitanti che ha incrociato per strada le sensazioni che un posto bellissimo e vengo da roma e quindi voglio dire è una realtà piccola misura d'uomo ma ricca piena di gente che lavora che si sposta per lavoro questa è una cosa che mi ha colpito immediatamente clemente inoltre affermato come questo nuovo ruolo sia per lui una bella opportunità di crescita professionale sicuramente sì perché se un gioco completamente diverso io ho lavorato a roma su fenomeni su macro fenomeni su diciamo dimensioni di persone profondamente diciamo diverse da questa però come lì anche qui la prossimità è la cosa principale tu non vai a fare il poliziotto alla cieca ci vai dopo aver studiato e ascoltato la gente e bisogna farlo sempre che se tu ti dimentichi di ascoltare non vai da nessuna parte possiamo sempre fare qualcosa massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto queste parole riprese dal giudice giovanni falcone sono state usate dal nuovo questore per fare chiarezza sui prossimi interventi che li vedrà impegnati prima di fare qualcosa vedere dove si mettono le mani e studiare bene nelle cose io ho fatto tante investigazioni politiche tante investigazioni diciamo di tipo associativo mi sono occupato i gruppi di estrema destra per anni e anche lì tu devi studiare non si va alla carlona non si va a testa bassa si ragiona e poi quando si prende la decisione si fa senza sì e senza ma al termine della sua presentazione raffaele clemente si è detto anche entusiasta della possibilità di essere a partire dal 2024 il questore della nuova questura il punto è che per fare la nuova questura occorre fare lavori studiare verificare tutto è scritto nel protocollo che voi conoscete perfettamente e a me piacerebbe essere ricordato come il questore della nuova questura nell'edizione del tg di ieri vi abbiamo dato la notizia della scomparsa tragica improvvisa del presidente del tribunale di pesaro giuseppe fanulli scomparso ieri notte a causa di un malore all'età di 65 anni erano circa le 11 di ieri mattina quando i colleghi non vedendolo presentarsi in ufficio lo hanno chiamato al telefono ma non ricevendo alcuna risposta sono andati a casa sua fanulli non ha risposto nemmeno lì e a quel punto i due colleghi sono riusciti ad entrare nell'abitazione del giudice grazie ad una finestra socchiusa il corpo del presidente era steso a terra a fianco del suo letto senza vita immediati soccorsi dell'ambulanza e della polizia per gli accertamenti del caso la morte sembrerebbe essere stata causata da un infarto che lo avrebbe colpito qualche ora prima del ritrovamento del corpo tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore come quelli del presidente della provincia giuseppe paolini e quelli dei suoi colleghi magistrati che lo hanno descritto come una persona umile affidabile e autoironica i funerali saranno lunedì 11 luglio alle 10 al duomo di pesaro dopo il ministro giovannini per la ferrovia dopo il ministro guerini per la questura in arrivo nel mese di luglio un terzo ministro a pesaro si tratta di luigi di maio ministro degli esteri che il 30 luglio sarà a pesaro per fare tappa per un progetto che ci spiega il sindaco di pesaro matteo ricci e avremo un nuovo ministro la fine del mese il 30 luglio che il ministro di maio con il quale firmeremo un accordo per il progetto che abbiamo lanciato come ali e che in qualche modo vede pesaro protagonista comune adotta comune abbiamo cominciato ad ospitare nel conservatorio rossini alcune studentesse in particolar modo diana che studiano qua e vengono da kharkiv città martoriata dalle bombe e grazie a questa esperienza allargheremo questa questa iniziativa comune adotta comune a tantissimi altri comuni italiani quindi un luglio carico carico di gente carico di eventi ma carico anche di accordi importanti con il governo italiano continuiamo a lavorare in questa direzione per una città e una pesaro sempre più nazionale le immagini che vi mostriamo ora fanno riferimento ad una segnalazione che è apparsa in queste ore su alcuni gruppi facebook del territorio la quale indica la presenza di una banda di ladri nella frazione di case bernardi del comune di tavuglia intorno alle 11 e 30 di ieri mattina un cittadino ha fotografato quest'auto nei pressi della sua abitazione la quale era stata addocchiata da alcuni ladri dopo le foto scattate l'uomo ha cercato di inseguire i malviventi che però se la sono svignata la guida di una golf bianca cinque porte con una targa che è stata molto probabilmente clonata le persone individuate a bordo sarebbero tre o quattro di carnagione olivastra e tutti indossavano mascherina guanti e cappellino dai commenti apparsi sotto al post pubblicato è emerso che la stessa banda di ladri è stata avvistata poco dopo anche nella zona di apsella farneto e schieti continuiamo a parlare di cronaca con l'aggressione avvenuta fano per mano di un uomo ai danni della sua compagna il fatto risale alla notte tra mercoledì e ieri davanti al caffè del teatro in piazza degli avveduti in pieno centro a fano dove un quarantenne avrebbe sferrato calci e pugni alla ragazza buttando la terra e stringendo nel collo con le mani il motivo sarebbe la gelosia di lui a seguito della decisione della fidanzata di andare al mare con degli amici il giorno seguente l'alcol in corpo dell'uomo avrebbe amplificato la reazione facendola sfociare in una cruda aggressione che pare essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del bar sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato i soccorsi alla donna riscontrando le lividi e contusioni non gravi presenti anche i carabinieri e quali spetta avviare le indagini per la ricostruzione dei fatti è arrivata pesaro in particolare al liceo scientifico marconi la quarto savona 15 ovvero i resti di un auto simbolo delle stragi di mafia che è stata inserita in un grande progetto culturale fino a domenica sarà esposta nelle cortile del liceo marconi da lunedì si trasferirà nel cortile della prefettura la quarto savona 15 e a pesero ovvero i resti accartocciati dell'auto simbolo della strage di capaci che ospitava gli uomini della scorta di giovanni falcone sono al centro del progetto culturale del liceo musicale marconi che nel tradizionale appuntamento annuale col musical dell'istituto porta in città un oggetto emblema delle stragi di mafia nelle trentennale di un attentato diventato uno spartiacque della storia italiana un'auto un simbolo al centro del musicale che fino a domenica si replicherà ogni sera alle 21 mentre la mattina sarà visitabile nel percorso espositivo allestito dallo stesso liceo la quarto savona 15 che da oggi fino a domenica compresa sarà visitabile nel cortile del liceo qui dove siamo ora dalle 9 30 alle 13 liberamente da tutta la cittadinanza sta all'interno i ragazzi hanno avuto questa questa fortuna questo regalo meritatissimo di averla come scenografia come parte integrante del loro musicale di quest'anno è un progetto che da 18 anni si rinnova e che non ha tanto bisogno di presentazioni tutti sappiamo un po di cosa si tratta e qual è il valore di questo progetto io penso che si fa un gran parlare di ripartenza di crisi economica di ripartenza di inflazione ma io penso che le fabbriche le aziende anche al di fuori di qua debbano guardare dentro questa fabbrica questa è una fabbrica molto grande e molto preziosa dove stiamo fabbricando il futuro i ragazzi lo stanno lo stanno fabbricando molto bene io sono molto fiero di loro siamo arrivati qua la quarta savona è arrivata due giorni fa i ragazzi hanno studiato per un anno le parti la storia e tutto ciò che riguarda la storia drammatica e coraggiosa di falcone borsellino e di tutti gli altri eroi e delle eroine che con loro erano e quindi veramente bisogna prendere esempio da loro perché la loro costanza e la loro speranza e il loro impegno farà sì che domani il mondo sarà migliore di come è stato fino a oggi la macchina o meglio i resti della macchina della scorta di giovanni falcone rappresentano simbolicamente una questa cesura della storia italiana la quarto savona 15 che il nome in codice della croma blindata che è stata la prima a saltare a capaci quella di falcone e a roma e fissa non è saltata in aria ma questa è la prima all'interno c'erano antonio montinaro il capo scorta vito schifani e rocco di cillo e diciamo che la custode il nome tutelare della della di questi resti e tina montinaro la moglie di antonio montinaro appunto lo dicevo prima il capo scorta ed è io lo definito voglieri un saccello sacro non è un monumento è un memoriale vivo il 23 maggio a capace nel 92 questa macchina è stata fermata ma in realtà continua perché ogni anno fa tantissimi chilometri e quindi continuo a testimoniare quella che è una memoria viva è una memoria che diventa impegno domani sabato 9 luglio alle ore 18 viene inaugurata al museo nazionale rossini la mostra renata tebaldi ritratto di una diva si tratta di un omaggio alla cantante pesarese nell'ambito delle celebrazioni mondiali del centenario della nascita del grande soprano l'esposizione a cura di alfredo corno offre una opportunità di scoprire renata tebaldi in un percorso tra abiti di alta moda costumi ritratti fotografie accompagnato dal sottofondo musicale della sua voce prodigioso talento che sapeva come modulare per far vibrare le corde delle emozioni è stato invece presentato ieri nella sede dell'unione dei comuni di pian del bruscolo il programma della fiesta global di montefabri il festival delle arti globali arrivato alla sua diciottesima edizione si svolgerà nel centro storico dell'antico borgo da giovedì 14 a domenica 17 di luglio quattro giorni di festa paesana popolati da artisti di strada street food mercatini e concerti incomincia oggi invece la tre giorni della festa dell'estate che si svolge come di consuetudine a belvedere fogliense a tavuglia come potete infatti vedere dalle immagini questo è il programma che offre la storica kermesse arrivata alla sua trentesima edizione da venerdì 8 a domenica 10 saranno gli stand gastronomici mercatini gli spettacoli la musica dal vivo e numerosi laboratori a colorare le strade di belvedere fogliense tutto pronto per la nuova edizione della fano dei cesari che vede presenti 250 rievocatori della romanità provenienti da tutta italia tanti gli appuntamenti dalle 14 alle 17 di luglio tra cui l'attesissima corsa delle brighe vediamo il prossimo servizio nuova estate nuovo viaggio nel tempo a fano è arrivato il momento si fa per dire di riaccendere le bighe da giovedì 14 a domenica 17 luglio è infatti in programma la nuova edizione di fanon fortune la fano dei cesari con una ricca carrellata di appuntamenti all'insegna della romanità ma si ritorna in grande stile la fano dei cesari ovviamente in un momento delicato perché negli ultimi due anni non si è potuta realizzare per per i motivi che conosciamo tutti ma con grande sforzo degli organizzatori ritorna alla grande una manifestazione che nel tempo ha segnato diciamo un grande momento della nostra città un momento di richiamo alla nostra storia romana le radici della nostra città con un evento che vede la partecipazione di oltre 250 rievocatori da tutta italia un grande evento quello dell'affano dei cesari che ogni anno in grado di cambiare per una manciata di giorni i connotati della città la città cambierà volto in questi giorni un grande allestimento della zona pincio con l'area dove poi si esibiranno fazioni rievocatori dove ci sarà la grande corsa delle bighe l'area del pincio che verrà completamente trasformata ma anche in tutta la città giardini amiani giardini lopardi prenderanno spazio a campamenti dei tanti rievocatori in arrivo e in quei giorni da giovedì alla domenica arrivando nella città potrete trovare potete scontrarvi con gladiatori con momenti di vita militare dell'epoca romana ma anche momenti di vita civile grandi ricostruzioni grandi didattiche come nell'area san michele dove la colonia mia fanesti si appresterà in un qualche modo a fare una ricostruzione molto particolare ed interessante tutta da vedere come i giardini del pincio dove si ma chi e le non si appresta appunto a fare delle ricostruzioni delle didattiche molto particolari sfilate battaglie e feste sparse un po ovunque grazie all'amministrazione comunale alla proloco di fano e alle tante vivacissime associazioni il programma sarà davvero ricco da giovedì 14 il momento dell'inaugurazione con un grande spettacolo del fuoco venerdì 15 in pieno stile fanno città dei bambini e delle bambine saranno i bambini a poter giocare con la romanità nella sabbia posizionata proprio davanti l'arco d'augusto quindi all'interno dell'arena del pincio con anche la magica corsa delle bighette dove le famiglie potranno divertirsi a giocare con la romanità sabato 16 la serata sarà dedicata alle fazioni questo grande momento di partecipazione popolare della vita cittadina alla fano dei cesare le fazioni e dovranno rappresentare degli spettacoli artistici proprio nell'area del pincio ed il tema dell'edizione 2022 che i popoli conquistati alla sera le 21 la colonia in la finestris rappresenterà con un grande evento con un grande momento di spettacolo quello che ecco il tema appunto del 2022 e la domenica il momento di partecipazione più intenso chiamato pompa magna un momento in cui le fazioni potranno sfilare nel magico area del pincio con tutte le tribune installate a contorno del percorso dove tutti potranno partecipare vedere e assistere a questo bel momento della città quindi la grande parata dei gruppi storici come ho detto prima provenienti da tutta Italia con costumi fedelissimi all'epoca romana la parata delle fazioni e poi la grande corsa delle biche per fanesi e turisti una vera e propria chiamata alle armi per quella che in realtà sarà come sempre una grande festa per tutti chi vuole potrà partecipare direttamente alla festa che avverrà il sabato sera che si chiama baccanaglia festa delle fazioni dove in via delle rimembranze insomma ci saranno stand gastronomici musiche la possibilità di vivere al meglio la fanno dei cesari e ovviamente chi vuole potrà partecipare anche la grande parata preparandosi con dei vestiti a tema sull'edizione 2022 parlando con i responsabili di fazione e quindi assumendo un ruolo di quella che deve essere la parata delle fazioni ovviamente dovrà rispettare tematiche e motivi che le fazioni in un qualche modo decideranno ecco per farlo potranno in un qualche modo contattare le varie fazioni quindi rendersi completamente partecipi della manifestazione e dal 10 luglio all'11 agosto torna per la diciannovesima edizione il Fossombrone Teatro Festival con un programma ricco di appuntamenti di importanti ospiti il programma è come sempre importante con tre personalità del mondo del teatro italiano e cominciamo con Fabrizio Ventivoglio domenica 10 luglio in lettura clandestina la solitudine del satiro di Ennio Flaiano quindi un importante spettacolo che sostanzialmente verrà recitato dall'attore Fabrizio Ventivoglio insieme a Ferruccio Spinetti che farà il contrapunto musicale uno spettacolo importante ci attendiamo tanta gente credo che insomma sia un buon modo per ripartire dopo due anni di pandemia che hanno inevitabilmente come tutto bloccato il nostro festival il secondo appuntamento è mercoledì 27 luglio con lo spettacolo ghita storia della fornarina con giulia bellucci che tra l'altro è forse impronese per la regia di giacomo ferraù è prodotto da eco di fondo con il sostegno dell'amat del comune d'urbino e quindi vedrà il ritorno di giulia bellucci nella sua terra d'origine Fossombrone questo ci fa particolarmente piacere e il terzo chiudiamo con Francesco Montanari in processo a Shylock ideato e diretto da Elena Marazzita dove l'artista romano sarà accompagnato da Paolo Recchi al sax soprano e da Massimo Moriconi al basso elettrico credo che siano tre autentici talenti del teatro italiano per un cartellone importante che mischia sempre comunque il classico e il moderno credo che sia un momento importante per la città e anche per la fondazione che sostiene questo festival mi piace anche ricordare che quest'anno è il 530esimo anno dall'istituzione del monte di pietà di Fossombrone poi è divenuto monte di credo sopegno e la fondazione monte di pietà è la naturale continuazione di tutta questa storia quindi 530 anni vanno celebrati e credo che questo cartellone ci consenta di celebrarlo degnamente. Passiamo ora allo sport e al basket con la presentazione del ritorno di Yasmin Repesa al comando della panchina della VL avvenuta ieri a Villa Catani Stewart dove per l'occasione si è tenuto anche l'estensione, il rinnovo di contratto con lo sponsor Prosciutto di Carpegno. Noi siamo lasciati, separati a qualcosa scritto in modo diverso, in modo rovinato diciamo così ma siamo rimasti veramente stralegati con tutta la dirigenza, con staff, con tantissime persone da Pesaro e da questo punto, da questa parte non è stata una sorpresa, è stata una sorpresa perché io onestamente aspettavo che continuino avanti con coach Banchi perché hanno fatto bene, dopo quando sono separati è arrivata chiamata, abbiamo parlato serio e profondo per mettere tutte le cose a posto che sono state diciamo misunderstanding che abbiamo avuto dopo primo anno e abbiamo fatto d'accordo che possiamo ripartire, andare avanti e fare bene insieme. Con il nostro budget non possiamo sbagliare, ci sono presupposti per fare bene un budget veramente discreto per fare bene, per trovare persone giuste, giocatori giusti ma nello stesso tempo non possiamo sbagliare. Prima di tutto non possiamo sbagliare le persone che non vogliono stare con la squadra, avere obiettivo comune, lavorare duro ogni giorno, sacrificare per vincere ogni giorno ogni partita, con pieno rispetto qualcuno potrebbe avere più talento ma per noi queste regole o caratteristiche base, caratteristiche umane sono molto molto importanti. Sappiamo dove dobbiamo mettere stranieri, prima di tutto se Moretti va via mi sembra che è molto vicino, noi da nostra parte abbiamo fatto una idea secondo me che è stata veramente molto corretta verso di lui perché aprire posto per primo point guard sai lui per adesso non ha accettato, vorrebbe giocare le coppe ma secondo me sono poche squadre nel mondo che lo danno opportunità per essere primo point guard, mio obiettivo è avere palazzo pieno, uno tra i palazzi più grandi in Italia, bellissimo palazzo, che cosa significa? Se ci sarà pieno vorrei dire che ci saranno risultati e così, l'obiettivo è questo. È un rapporto che va avanti non scontato, sono questi bei risultati e le emozioni che in questi anni abbiamo ottenuto, ci fanno sempre venire più voglia di rimanere legati alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e lo facciamo soprattutto anche per una questione imprenditoriale perché siamo legati a questo territorio con il nostro prosciutificio in Carpegna e siamo ancora qui per il quarto anno. Sicuramente credo che come title sponsor siamo nei top 5 di questo campionato, questo è quello che volevo dire e quello che volevo sottolineare che ho avuto modo di poter fare stasera è che l'impegno che l'ufficio Beretta prende come singolo entità sportiva è il più alto che noi affrontiamo. Io quando Ario ha dato la notizia che Banchi per sua volontà ha deciso di interrompere il rapporto semplicemente ho chiesto a Ario ma Jasmine è ancora disoccupato? No, lo spettacolo delle ultime partite, soprattutto io purtroppo ho stato un po' assente nella metà del campionato, la seconda metà, però ho avuto modo di vivere la gara 3 dei playoff ed è stata una figata pazzesca, il pubblico, la motivazione, le lacrime che ci sono state da parte di alcuni giocatori per l'ottenimento di un buon risultato che il format dei playoff pecca un po' per quello che siamo come squadra. Le ambizioni sono veramente alte anche perché abbiamo capito che indipendentemente da che squadra fai, le scelte che fai, la situazione della salute dei giocatori, gli allenamenti, la preparazione, possiamo arrivare dove vogliamo. La realtà dei fatti è quella, come dicevo prima, noi probabilmente come squadra siamo un po' più avvantaggiati nel format delle Final 8 perché sono partite one shot dove la capacità tecnica conta al pari del carattere e della determinazione e credo che con a capo della squadra uno squalo come coach Reppe già potremmo probabilmente toglierci qualche soddisfazione in più. Poi arrivare vicini o conquistare un trofeo l'importante sono le emozioni positive. E con lo sport si conclude qui questa nuova edizione delle Rossini News. Prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata. Infatti alle ore 21.20 ci sarà lo speciale realizzato da Rossini TV inerente alla gara ciclistica Rossini-Raffaello, il primo memorial di Marco Ragnetti. E poi a seguire alle ore 21.40 ci sarà un altro speciale realizzato da Rossini TV inerente alla presentazione del brevetto Ormone Formula Technology. E poi vi ricordo anche l'appuntamento per domani mattina alle ore 7.20 in diretta come sempre. Buongiorno Rossini, la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro e Urbino. E con questo è veramente tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie! Grazie.